Finché non ci sarà una notifica, non ci sarà alcun negoziato. Questo ho detto ai commissari, ai direttori generali e al personale della Commissione europea. Nessuno deve cercare di iniziare un negoziato prima che ci sia stata mandata la notifica. Capisco che David Cameron voglia prendersi un po' di tempo per riflettere perché ha chiesto di restare. Quello che non capisco però è che coloro che volevano andare via non sono assolutamente capaci di dirci che intenzioni hanno, di dirci quello che vogliono. Tutti quelli che hanno fatto la campagna per uscire ci hanno chiesto tempo. Pensavo che se si vuole lasciare si ha un piano, un progetto, almeno una visione di insieme, invece non ce l'hanno. Comunque spero che la notifica da parte del prossimo governo britannico ci perverrà quanto prima.